Ciao ragazzi e bentornati in un nuovissimo video di Transformers Oggi vi chiedete perchè la grafica è diversa? Perchè oggi ci troviamo in un nuovo Transformers Perchè ho trovato, quindi l'ho preso per farvelo vedere Qui è dove tipo la terra è in vasa Ci troviamo su Cybertron Come nello scorso E qua sono tutte le certe macchine Io salto, quindi saltiamo E sono Optimus Prime Prendo una macchina Ok Vogliono spazzare via la città Cioè vogliono proprio distruggerla Mi distruggo Ma cos'era? Così mi crescono, ok? Che cosa sono queste cose? Cioè scusate cosa sono Cioè so che sono Desertion Ma ok Sono Infante Di guerriero Fante Un normale Non investo Ehm 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 Ehi, ma che c'è? Cos'è giù una beigosa? Sono aerei. Ehi, aerei. Aerocotterino. Shaker. Ok. Aerocotterino. C'è side swipe. Uno morto. Ok. Ok. Side swipe per me ha dato una mano. Ehi, la ergo non c'è. Spendio. Cos'è interagire con side swipe? C'è l'enticuline cosa da ose side swipe. Gassi, vedrai yudo. non ho avanti c'è il camp il è il camp c'è il camp il camp non c'è l'occhio ha il camp è il Grimlock che succede? perché trema tutto? perché quella enorme ma... ciao? sei un nostro amico? credo di no ciao mi dà fastidio se ne parliamo? è distrutto con un colpo se ne parliamo? si Non ci fai qui Guardi tutti Con la mia pistola ad altaccano Che cosa di brecci Non mi sono mai... Megatron Spendendo Sì, ridi, ridi Che ti rompo la faccia adesso Megatron Sì, vabbè, ciao E' subito morto Ma dai, vedi che si scarza Andiamo Andiamo un po' qui Forse devo fare così Ok Devevo fare così Qua c'è un coso Dobbiamolo prendere Cosa succede adesso? Fucile check Ardente Ok, confermo tutto Deccarmi Armi Vediamo come c'è là Ehm, tipo Energon Tipo Energon Tipo Energon Tipo di mistero Forse vanno bene Vai Posso cominciare con Bumblebee Ho cambiato Output E mi sono messo Bumblebee Già ve lo dico Non userò sempre Bumblebee Cambierò pure un wheeljack In Insight E' bellissima La sua macchina Ehm Il giallo Il giallo Ma che giallo scusa C'è Un tipo forte Non capisco Fante E' un fante di credo 2 Credo Eh Ah, c'è un wheel Ce lo sai suai Beh alumni Especial GONNA DEAT BOOM GRANA DEAT GONNA DEAT Ho caduto male Ed è morto Vediamo No, mi indica il fungine se la matta Arriba 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 Quindi Dovrò ancora arrivare alla torre Andiamo Arriba 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 un martello vuomini un nuovo blu di più spade questo qui ecco questo eh si comincia secondo me Grimm lo spacca entro e e e e e e e e e ecco ti meriti questo oi oi è questo è tutto il che è quello che è 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 Mi brucio la vita o si? Tiè becca di sta martella dritta nei denti Non c'è nulla Mi rimlock shut it down First subgenerator shut down The stronger current should not be weakening Non c'è nulla C'è nulla Non c'è nulla Il suo uguale! Il nostro mondo è morto! Lavoro essere sicUE nella destinazione diquettica Aики controlli di destino Questi mi ascolti andiamo ragazzi a prendere quel generatore 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 giusto e mi tengo visto e fugir e dai bambu e 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 c'erano quelli congelanti ragazzi perchè non prima l'ho visto uno di quello che poteva congelare c'era quello che poteva congelare c'era quello che poteva congelare a noi ecco parte no one gets by the constructicons e all hail megatron deconstruct better luck next time no 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 oh no o o o o o o o o morto o 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 video e ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi